Due vittorie di fila, tre nelle ultime quattro giornate di campionato. Il Nardò si è rilanciato, ora è ufficiale. Il 2-1 del D'Angelo sul campo della team Altamura ha portato a 10 i punti della formazione di Nicola Ragno in classifica. Superando l'ex capolista in battuta prima della sfida ai Neretini, Francesco De Giorgi e compagni si sono portati a meno 2 dalla zona pre-off e a meno 5 dalla vetta, detenuta dal Fasano. L'ultima classifica, la prima classifica, sempre tre punti ti consegna a fine partita. Però sapevamo che comunque psicologicamente vincere ad Altamura ci dava qualcosa che non abbiamo avuto nelle precedenti settimane o comunque l'abbiamo avuto a sprazzi. Non era la migliore partenza fatta da noi e quindi volevamo dare un segnale importante a tutto il campionato. Alla quinta stagione in carriera a Nardò, la quarta di fila, De Giorgi conosce troppo bene l'ambiente per credere che sette giornate di campionato possano fornire indicazioni consistenti. La sticella dell'ambizione, dopo i play-off vinti nella scorsa stagione, resta alta. La partenza un pochettino con degli handicap che ci siamo messi noi stessi in difficoltà. Quando poi cambi qualcosa nel gruppo, o il gruppo trova subito la sintonia oppure l'amalgama giusta dall'inizio oppure ci mette un po' più di tempo. Solo che le squadre che comunque hanno puntato a fare qualcosa di importante sono partite subito spedite, forti. Invece noi siamo partiti un pochettino più a rilento. Nardò, essendo una certezza in questa categoria, è brutto da dire, però la piazza è stata abituata bene lo scorso anno, quindi vedendo questi risultati e vedendo le nostre prestazioni non delle migliori, giustamente si faceva qualche domanda, se ci fosse qualche problema in generale per quanto riguarda proprio la squadra e tutto il resto. Ma di difficoltà, di problematiche non ce n'erano. Alle porte ci sono tre impegni nell'arco di otto giorni, Matera è in casa, trasferta del primo novembre a Martina e altro incrocio al casalingo con il Bitonto. Il 5 novembre De Giorgi ne è certo per la corsa alla promozione diretta, ci sono almeno sette squadre di cui tener conto e il Nardò fa parte dell'elenco. Aggiungi il Fasano, metti a noi, metti il Barletta, metti la Gelbison, metti pure tutte le altre, l'Alta Mura, Casarano, non voglio dimenticare nessun'altra, chiedo scusa se lo faccio. Quindi sarà un campionato difficile, sarà un campionato da due volte completamente opposti fino a dicembre e da dicembre in poi.